Conosciamo diverse modalità operative di Vim, la Normal, Insert e Command Line Mode, ma anche la modalità Replace. Abbiamo in Vim però anche una Visual Mode, da come ci suggerisce il nome Visual, visuale, e una modalità che ci permette di visualizzare. Ma visualizzare che cosa? La porzione del documento su cui andremo poi ad effettuare la modifica. Apriamo il file visualmode.txt, quindi facciamo Vim, visualmode.txt, e leggiamo che abbiamo tre tipi di Visual Mode, a livello di carattere, a livello di linea e a livello di blocco. Entriamo nella Visual Mode a livello di carattere con la V in minuscolo, entriamo nella Visual Mode a livello di linea con la V invece in maiuscolo, entriamo nella Visual Mode a livello di blocco con CTRL più V. Mi sposto alla parola questo, quindi faccio una ricerca in avanti, questo, e invio. Iniziamo dalla Visual Mode a livello di carattere, entriamo nella Visual Mode a livello di carattere e digitando V in minuscolo, quindi faccio V in minuscolo. Ora vediamo che se effettuiamo degli spostamenti, ad esempio mi sposto a destra con L, vediamo che la parola, in questo caso questo, viene evidenziata. Posso andare ancora a destra e vediamo che il tutto viene evidenziato. Posso anche fare J e vediamo che la riga successiva è stata evidenziata, posso ancora fare J e così via. Ma faccio K per tornare indietro, faccio ancora K. Ora vediamo che cosa succede se ci spostiamo sulla sinistra, ovvero facciamo H. La parte che era prima selezionata adesso non è più selezionata, quindi questa parte che in precedenza era selezionata adesso non è selezionata. Quindi se noi siamo in questo punto e vogliamo selezionare anche questo punto, quindi questa parte a destra, e proviamo a fare L, vediamo che non ci riusciamo. Come possiamo fare in modo che questa parte rimanga selezionata e selezioniamo anche tutto? Lo facciamo digitando O su tastiera. E vediamo che il cursore si è posizionato a questo estremo sinistro. Ora se facciamo H, vediamo che selezioniamo anche la parola tutto. Se adesso vogliamo selezionare anche la parola racchiuso, se andiamo a destra, deselezioniamo quello che abbiamo, diciamo, sulla destra del cursore. Ma facciamo nuovamente H per andare sulla T. Dobbiamo spostarci all'estremo destro e lo facciamo con la O. Quindi digitiamo O e vediamo che il cursore si è posto all'estrema destra della selezione. Quindi vediamo che se facciamo O si sposta una volta sull'estrema sinistra e una volta sull'estrema destra. Perfetto, possiamo quindi adesso selezionare la parola racchiuso, ma invece di fare L, sappiamo che con la W ci spostiamo di parole in parole in avanti. Quindi se facciamo W e facciamo ancora una volta W, vediamo che la parola racchiuso è stata selezionata. Possiamo ad esempio fare 2 W. Facciamo ancora 2 W e vediamo che la selezione che ci interessava è stata effettuata. Facciamo H per spostarci sulla E. Una volta che abbiamo effettuato la selezione, che cosa possiamo fare? Possiamo effettuare le operazioni che conosciamo. Possiamo cancellare, possiamo copiare, possiamo trasformare da minuscolo a maiuscolo e così via. In questa modalità, dato che già abbiamo selezionato la parte del documento su cui operare, utilizzeremo solo l'operatore, quindi non faremo operatore spostamento, ma faremo solo operatore, quindi indicheremo solo l'operatore. Perché la selezione già l'abbiamo fatta. Ad esempio vogliamo cancellare questa parte, facciamo semplicemente D. Sappiamo che D sta per Delete. Una volta che abbiamo effettuato l'operazione, siamo nuovamente in Normal Mode. E infatti se ci spostiamo ad esempio a sinistra con H, vediamo che non viene selezionato niente. Ma faccio U per annullare. Ma rientriamo in Visual Mode a livello di carattere e lo facciamo con la V in minuscolo. Vogliamo sempre selezionare la parte da chiusa tra le frecce. Quindi per farlo facciamo una semplice ricerca in avanti. Facciamo Slash, Spazio, Minore e Invio. Ora senza fare alcuna operazione, facciamo Esc per tornare in Normal Mode. Nel caso in cui adesso vogliamo rientrare in Visual Mode, riottenendo la selezione che abbiamo effettuato in precedenza, lo facciamo con GV. Quindi facciamo prima G e poi V. Facciamo GV e vediamo che siamo nuovamente in Visual Mode, in Visual Mode a livello di carattere, ed abbiamo già selezionato la parte che abbiamo in precedenza selezionato.